Il piano triennale delle opere pubbliche da 101 milioni di euro è pronto per essere approvato. Finirà il prossimo 27 giugno il Consiglio Comunale. Fondi attinti in maggioranza dal PNRR. Tanti gli interventi dalle scuole già annunciati, come Marconi, Kennedy e Amicis, Collab per la dieta mediterranea, Alla Viabilità, Alpa, Alla Schiavo, passando per la zona Asi, Depuratore Tavernora, Area di Sedimex Fiorentino e Abbattimenti in Litorania. Ma il piano triennale include anche le operazioni di riconversione dei beni confiscati e la criminalità organizzata. Ci sono 4 milioni di euro per il maxiprogetto di Via Catania, il famoso polo della carità che gestiranno i parroci della città. In Via Montcharmant nascerà la casa di accoglienza per donne maltrattate, 400 mila euro, mentre in Via Bosco Primo un milione di euro serviranno per realizzare un nido di infanzia. In Via Emilia un centro antiviolenza che costerà mezzo milione di euro. Sant'Anna e Versana vedranno nascere due nuovi asili nido per 2,2 milioni di euro, mentre in Via Rosario con 2 milioni di euro partiranno i lavori di demolizione e ricostruzione. Sempre a Sant'Anna, nelle palazzine di Viale e Manfredi, 3 milioni di euro per l'efficientamento energetico. Per i residenti di Piazza Cacciatore, 5 milioni di euro per interventi di mitigazione del rischio di esondazione del Tusciano, 3 milioni e mezzo per la messa in sicurezza del reticolo stradale. Per gli amanti delle due ruote, 180 mila euro per la realizzazione di corsie ciclabili.